Ciao a tutti, oggi vogliamo parlare di piumoni e di come si possono mettere nel sacco copripiumino senza faticare troppo grazie ad alcuni trucchi intelligenti. A volte ci si ritrova affaticati e con il mal di schiena per aver tentato di mettere quel terribile piumone nel suo sacco, specie se si è da soli e si tratta del piumino matrimoniale che è piuttosto grande. Il nostro video vi aiuterà sia che siate da soli che in due. Per prima cosa posizionate il lenzuolo a sacco sul letto nel giusto, il lato più lungo va per la larghezza del letto mentre il lato più corto è l'altezza del letto. Il copripiumino va messo al rovescio perché poi si girerà nel verso giusto all'ultimo quando si srotola. La procedura per mettere il piumone nel sacco se si è da soli è questa. Stendete il lenzuolo a sacco sul letto ma ricordatevi che va al rovescio. Arrotolate il sacco assieme al piumone fino alla fine della coperta. Risvoltate il bordo del sacco copripiumone lungo l'apertura per far uscire il rotolo dall'interno dall'interno verso l'esterno. Ora potete cominciare a srotolare il piumino fino alla fine del rotolo. Il piumone si posizionerà nel sacco mentre si srotola e dalla parte giusta non dovete far altro che stendere e togliere le pieghe a mano. Potete farlo anche in due, sarà più facile arrotolare e da una parte girare il lenzuolo e srotolare il lenzuolo di sotto. Provate e ditemi come vi è venuto.